La baciattrice Belloni, il presidente Pompasei, il collega Liu Liu e il dottor Palumbo e gli altri amici che ho visto tra il pubblico con i quali abbiamo avuto modo di collaborare spesso. Intanto voglio dire subito una cosa, noi non ci troviamo oggi in Cina in una epoca di cambiamento, questo è un vero e proprio cambiamento d'epoca. La nuova era che è stata lanciata dal presidente Xi Jinping rappresenta una visione per il futuro della Cina basato su uno sviluppo, una crescita trainata dai consumi, una crescita di qualità e non più solo una crescita rapida, il soddisfacimento del benessere cittadini, la definitiva evoluzione della Cina in una grande potenza mondiale ad elevato tasso di innovazione tecnologica. Questo è un cambiamento d'epoca che secondo la leadership cinese mira a raggiungere tre obiettivi che sono dichiarati. Nel 2021, che è l'anno del centenario della fondazione del Partito Comunista, il raddoppio del PIL e del reddito pro capite, ciò che implica una crescita non inferiore al 6,5% all'anno. Entro il 2035, una piena e diffusa modernizzazione, quindi con un coefficiente tecnologico più elevato rispetto a quello attuale, ed entro il 2049 è l'anno della fondazione della Repubblica Popolare Cinese di raggiungimento di un sostanziale primato mondiale. Allora, queste prime messe sono essenziali per comprendere esattamente dove si sta dirigendo la Cina e per poter intercettare le opportunità che questi cambiamenti di questa epoca, che questo cambiamento d'epoca offre all'Italia e alle nostre imprese. Qualcuno parla di globalizzazione 2.0 con caratteristiche cinesi. Certamente, se questo è il caso, abbiamo due strumenti che sono stati già menzionati. Uno è Pelican Road, questo grande concetto di connettività euro-asiatica che offre certamente delle importantissime opportunità al nostro Paese, alle nostre imprese in termini di portualità, logistica, in termini di infrastrutture, di comunicazione, di scambi, di commercio, di cultura, secondo una visione lanciata dal Presidente Mattarella, nuova via della seta della conoscenza, che implica rapporti people to people, quindi anche turistici, culturali, accademici, eccetera. E Made in China 2025, questo programma di grande ristrutturazione del tessuto, del sistema industriale cinese, che vuole trasformare la Cina in una potenza manizzatoriera globale di avanguardia, aprendo tra l'altro la nostra imprese e le opportunità di collaborazione assolutamente con il settore della mercata. Entrambi questi strumenti ci danno occasioni di collaborazione, di partnership reciprocamente vantaggiosi. Voglio ricordare che proprio oggi Piaggio ha finalizzato un accordo che era già stato sottoscritto di sviluppo e produzione di una gamma di veicoli commerciali, insieme al gigante del più grande produttore di veicoli cinese, che è Foton. Oggi le parole chiave in questo cambiamento sono qualità e innovazione, esattamente delle parole chiave che dipingono il sistema produttivo italiano. Questo cambiamento naturalmente intercetta le esigenze di una classe media che secondo la World Bank sarà di circa quasi un miliardo di persone nel 2030, che aspirano a una migliore qualità della vita, a un ambiente più salvere, standard elevati di assistenza sanitaria, educazione, di sicurezza alimentare, di pianificazione urbana, tempo libero, di cui importantissimo richiamo al turismo. E' inciso, i numeri di listi che sono stati rilasciati l'anno scorso sono saliti del 15% rispetto al 2016 e nei primi 5 mesi abbiamo addirittura un più 30%. Ora, dinanzi a questo contesto così dinamico, è chiaro che il nostro approccio non può che essere sempre più moderno, deve essere più organizzato e certamente rapido nel cogliere queste opportunità. Bisogna rafforzare l'impegno congiunto di istituzioni e imprese, ed è esattamente quello che il Ministero degli Esteri sta facendo.